He lost my car Che modalità è Aspettate Cascato? Sì Andiamo 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 Che è successo? Veloce 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 sui No 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 che sono questi qua Aspettate che moliero Sui Come? Si era rialzato Ok Andiamo Cosa dobbiamo consegnare? Perché è una cattura Allora intanto proseguiamo Qui cos'è? Ok Oh raga io trollo Qua er suino Aspettate 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 Braciola mi dispiace tanto E' sopravvissuto come è possibile? Aspettate eh Ok Dove è il suino? Romanaccio? Ma guardate che non so riuscire a trollarli eh Andiamo 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 Ah là c'è la scossa Pure noi abbiamo la scossa E qualcuno ha preso la scossa eh No che c'ho paura della scossa io Mamma mia rica Sono vivo Cosa dobbiamo consegnare? Che non ho capito Ah ok 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 Lo sea shark Dobbiamo consegnare Aspettate Andiamo a prendere il sea shark Ok Devo dire che è veramente fantastica questa cattura Asui Prendi pure te un bel sea shark Andiamo a fare un bel punto Ole Dove Devo consegnare? Oh mio dio è pericoloso eh Io da questa parte Ok Ah qua si consegna Perfetto così Dove risalgo? Da questa parte Oh sui Oh Annaggia te eh Aspettate che motore l'orzuino eh A cinghialotto Ok Aspettate Mamma mia sui No non c'ho più la pistoletta Dov'è la pistoletta? Aspetta che lo arvo Dov'è lo no? Regà Sto per morire Aiuto Dove sto? Non lo so regà Io scappo Nel dubbio Me ne vado via No no che muoio Ok qua c'è un giubbetto Perfetto così Andiamo qua Dobbiamo attendere Ok Aspettate un attimo eh Ma chi è che parlava? Eeeh Guardate romanaccio eh Mamma mia sui eh Ole Arato Ok E ora Lascio un gg Andiamo a prendere lo shishark Mannaggia a me che non riesco a dire Ole Occhio sui che ti fai male eh Ah qui ancora non è cascata roba Aspettate che Trollo Anthony Ok Dai Dovevi passare Anthony Mannaggia a te No ho finito pure le munizioni Prima o poi trollerò qualcuno eh State tranquilli Saltiamo Ok Devo dire che è facile consegnare eh E abbiamo pure vinto Mamma mia che squadra Che squadrone che c'ho Ah ma c'è gente che sta fuori? Ah c'è gente che è rimasta bugata mi sa eh Ecco perché non c'era più Che peccato E a volte succede nelle catture Dove stanno loro? Stanno proprio là C'è target e bomber che stanno fuori Speriamo che non mi bago io eh A parte che non siamo mai morti Oh mio dio E qua cosa sta succedendo? Dobbiamo roxarredditor Ok Là c'è un suino Noi consegniamo qua E questo è pure il punto della vittoria Oh mio dio Round vincitore Prossimo round Ok No round E questa volta voglio trollare almeno un suino eh Uno solo O della mia squadra O della squadra avversaria Andiamo Veloce sui Ok Veloce 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 raga Allora Qui ci dovrebbero essere i tubi se non mi sbaglio No più avanti Ah no Però qui posso fare così Aspettate Ci arriva? Sì sì Vediamo se trolla qualche suino Vai avanti sui GG Qualcuno ha preso eh Ok Oh regà andiamo 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 Eh regà Sono rimasto leggermente trollato Pure Monding Italy è rimasto trollato Aspettate eh No che qua cascano pure gli autobus eh Allora Risaliamo su Mannaggia l'equilibrio eh Ero convinto che ce la facevo invece Nada Ok Belli rapidi eh Allora Qua Facciamo un po' d'attenzione sui Piano 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 Ok Andiamo belli veloci Guarda questi Asui arriviamo lì Tutti quanti La pistoletta ce l'ho? Sì sì Ok Asui Ok perfetto No ne manca uno Ne manca uno sui Mazzuio Perfetto Andiamo 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 Ma quelle Quelle scatole cascano Ah cascavano Che peccato Aspettate che mo trollo un suino eh No 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 Aspettate un secondo eh Ok Allora I tubi Vorrei colpire i tubi Vediamo un po' se becco qualcuno Il suino dov'è Ho preso il suino No Aspettate eh Ho finito i colpi No che peccato Comunque gli altri Stanno andando a consegnare eh Mannaggia che finiscono subito Questi colpi eh No che prendo la scossa pure io Ok ci sono Non chiedetemi nada eh Andiamo Allora Qui abbiamo I sea shark Blu Eh si Perché il mio suino Non si è tuffato Allora Ma sui dove vai Ok No sui Ho sbagliato No no non mi portava Ok E ora come vado di là Mannaggia a me eh Quando me trollo Non dovevo salire col suino Allora Io direi di fare una bella rissa con stewee Ah sui Ho visto che stai sott'acqua eh Aiuto Oh mio sui eh Aspettate che mo lo harammo eh Taglie 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 Asui No che muoio io eh No no Regà sto per morire Sto per morire Mi scordo sempre che sono rango basso quindi Ho meno vita Ah ok Io non sono rimasto buggato Pure il fagiolino Ma regà ma si può fare il parkurito col fagiolino? Taglie sui salta qui No se saltavo qui Giuro che andavo col fagiolino eh Ma perché c'è un nemico là? Abbiamo pure vinto Comunque avviamo un altro round eh Ok Ho avviato un altro round Ma che completini hanno questi suini? Oh mio dio che spettacolo L'altra squadra? Pure qui hanno lo stesso completino Non so che completino sia ma è veramente carino Guardate che completini che se so fatti Sti suini Fantastici Dove vado io? Non lo so regà Non mi chiedete nada Andiamo Allora Ci riuscirò a trollare almeno un suino Io voglio solo trollare Non me ne frega niente di consegnare Aspettate aspettate Spariamo là Ok Occhio sui Che pericoloso stare là eh Ok Come Da dove è uscito fuori il mondo in ghiitari? Regà non mi chiedete niente eh Per favore Io Non so da dove è uscito Fuori il mondo in ghiitari Perché poi Ah Ho capito Ho capito Ho capito Ha fatto il giro da qua Per andarmi a trollare là Io ho trollato un suino E lui ha trollato me eh Ok Ma cosa? Questa è colpa mia eh Che non guardo dove vado Allora Aspettate eh Che qui ho visto un suino Due suini Se c'è pure un target Oh mio Becco target io No regà io sto quasi a morire però eh Ah Sei inattivo sui Meglio così Meglio così Meglio così E dai sui Dove li dai i pugni Regà Come li sta dando i pugni il suino Me lo spiegate? Non è colpa mia O è crashato il suino mio Non so Che problemi ha Ma Cosa Sta Succedendo No Me l'ha data la kill Non era inattivo Però dava i pugni all'aria Ma qui non posso salire no E dobbiamo fare il giro Bel tuffo sui Allora Aspettate eh Che oggi è una giornata Veramente strana eh Il suino rimane Veramente trollato Da pugni Non si sa dove Ok Andiamo andiamo sui Sui E lo sapevo io Che era pericoloso Ok Regà fatemi avviare Rockstar Editor Il suino si stava pulendo Il giacchetto? Ah no Qui non c'è niente Aspettate un attimo C'è il suino qua? Sì sì Li voglio trollare Ok Vieni sui Vieni che non c'è niente Ok Allora Devo dire che li ho trollati eh Allora Io a questi non li trollo eh Vado avanti Ok Siamo vivi Fai un bel salto sui Perché il tuffo? Perché il tuffo sui? Ma io dico eh Stiamo pure perdendo Perché non abbiamo fatto Nemmeno un punto eh La colpa è la mia Perché Mi sono messo a trollare tutti Mamma mia Te haro eh Te haro eh Ma si possono schivare I pugni in acqua? Ma regà siete troppi però eh Siete troppi Siete troppi Ah sui Dai sti pugni Come nuoti sui Regà Io nel dubbio me ne vado eh Ok Però mi casca qualche camion in testa Me lo sento Me lo sento Ok No 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 Che me erano qua eh Devo fuggire Basta questi camion Non briciolo di vita Un pugno e sono morto Un pugno e sono morto Regà Guardate quanta vita c'ho Ehi Qui c'è pure un altro Aspettate Non lo sui eh Sputtate Se ce riesco Lo haro eh E qua Ah Modding italiani attivo Meno male Beccate questo Ok Qui non c'è nessuno Vero? No Ma guardate Sono morto Con un colpo di pistoletta Lancia razzi Ok Mancano solo tre minuti alla fine Io mi stavo divertendo Ma quanti fagiolini ci stanno qua? Oh mio dio No 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 Scendiamo Scendiamo Mamma mia Quanti fagiolini Ok Viamo Rockstar Editor E andiamo Aspettate Controlliamo la situation Ok Ho fatto bene ad aspettare Possiamo andare Ok Oddio regà Casca il camioncino No sono vivo Sono vivo E mo come faccio? Devo attendere che casca un altro dump? Eh no Devo fare il giro Passiamo qui Il mio dio si sta pure muovendo Ok regà Speriamo che non fa il salto eh E il tuffo scusate Ok ci siamo Qui c'è un'ambulanza Si può andare Si Ma regà cosa succede Se io faccio così? Succede Non succede niente Si sta a scaricare il joystick Ma com'è possibile Ogni volta che registro Si scarica il joystick Ok andiamo Qua c'è una vita Ok Ma regà io non Io non dico nada Io mi ritiro Mi ritiro a trollare suini Dove stanno? Regà Come Posso Fare Non c'è nessuno poi Me la devo fare tutta a nota Abbiamo perso vero Ok Ultimo round Come possedute? Cosa Cosa ho combinato Regà? Ho messo tutte le armi? Ok Suini Andate a fare la guerra Io non ho armi Sui Aspetta eh Dammi un'arma Sui Bonnaccio a te Io non ho armi Sui dammi St'arma Target Regà Perché ho messo Possedute Io ho solo Una pistola E ora come glielo dico? Sui dammi sto pazzuca Tutti Corpazzuca Ho fatti i danni Lo sapevo Cosa? Dove si è tuffato Il suinos? Veloce Sui Regà Anche gli altri Sono armati eh Io non so davvero Come andrà a finire Non mi chiedete niente Per favore Ok Ma la cosa più brutta È che Va bene pure Con tutte le armi Però Io ho solo una pistola So benissimo Che un bravo giocatore È bravo anche solo con una pistola Ma il suino Si trolla solo con la pistola Si trolla anche se Ha tutte le armi Allora Andiamo Sui c'è qualcosa qui No Sui non voglio la scossa No 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 Situazione critica Bello Bellissimo sui Complimenti Andiamo 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 Prima che mi arano eh Basta solo che faccio Qualche punto eh Poi sono felice Tuffiamoci Il suino mio Quando si deve tuffare Non si tuffa Quando non si deve tuffare Ok aspettate Ma cosa c'è al suino mio Oggi Me l'ho spiegati Ok Non riuscivo a salire Andiamo Facciamo quello un bel gestaccio Oh mio dio Srega Speriamo che non mi sparano eh Ma ora non so se si è glitchato Se si è glitchata la cattura Perché Dove sto consegnando io Devo andare di qua Prima che mi uccidano Prima che mi uccidano Ok Ho consegnato Stavo dicendo L'altra squadra Le armi A parte che non la vedo L'altra squadra Non so proprio dove sia Ok Andiamo qua Ok Io ho solo questa pistoletta Raga Ma dove stanno gli altri No Non ci stanno Raga Allora Qui abbiamo un po' De suini Ah stanno di qua Stanno di qua Aspettate Noi abbiamo fatto due punti eh Ok Dai E te shot Sui Ah sui Ma non c'è te eh Lo volevo fare secco io Ah sui Ok No Mi hanno fregato di no La kill Aspettate eh Io rimango qua Tanto mancano pochi punti Alla fine Eccoli là Vedete C'è solo uno eh No 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 Sono tanti Sono in tre E c'è anche uno a piedi Sto sparando in mira manuale Perché non ci arriva Ma guardate C'hanno pure il cecchino Io non c'ho niente Ok Vabbè regà Sapete che vi dico Io vado a consegnare Andiamo a fare un altro punto Del suino A parte che ne bastano Altri due Ok Non lo so Non lo so cosa succede Oggi al suino Eh per favore Dopo questa Dopo questa Vi sparo Un potere del suinos Perché Va più che bene Che acrobazia ha fatto Me lo spiegate? Scrivetemi Nei commenti Che acrobazia ha fatto Possiamo andare Sì Aspettate eh Speriamo che non mi arriva Una bazzucata eh C'è qualche suino Che sta arrivando No Aspettate che Eeeh Col cecchino Questo era un cecchino Regà Oh regà Manca solo un punto E abbiamo vinto eh Regà Come ho fatto A fare questo trick Di nuovo Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Oh mamma mia Sui Solo con la pistoletta eh Mamma mia Sui Tearo Esplosioni No no Eh regà Esplodeva tutto Non l'ho fatto in tempo Però Almeno ho fatto una kill Con la pistoletta eh Ok Ma abbiamo vinto No Regà Io riprovo a fare il trick eh Aspettate Ah regà Ma Come Non mi era mai successo Prima di fare tutti questi trick Ok Mamma mia Pearo eh Ok Uno ucciso Almeno ucciso uno eh Braciola Ancora non abbiamo vinto Mancano 20 secondi alla fine L'ultimo trick del suino Per favore sui No Questa volta no Ok L'ultima kill del suino Ma cosa Il suino sta facendo troppi ragdoll eh Chi è chi è chi è chi è Mamma mia Dearo L'ho ucciso L'ho ucciso Cinghialotto eh Sono stato veloce L'ho ucciso Troppo non ho ucciso Romanaggio Comunque sia Guardate un po' Vincitore Se vi è piaciuta questa cattura Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Sui video su Instagram Salute Sì suini Bello Sì suini Sì suini Sì suini Sì suini Sì suini